Sono Katie La Torre, sono un'avvocata, mi occupo di diritto antidiscriminatorio, sono un'attivista del movimento gay, lesbico e trans, specie trans, allergica ad ogni forma di disuguaglianza. Sono capogruppo in consiglio comunale per la lista con Amelia per Bologna con Vendola, quindi consigliera comunale da quattro anni. Sono appassionata di buone politiche, specie buone politiche per il bene comune. Mi candido in Regione perché osare si può, osare immaginare e non soltanto immaginare una Regione solidale, creativa, rigenerata, sostenibile. Mi candido perché osare si può avere delle idee che rendano la nostra Regione la meno diseguale d'Europa, che rendano la nostra Regione a portata di mobilità sostenibile. Vorrei che si sviluppasse l'intermodalità in tutta la Regione, per cui vorrei che tutti i treni fossero percorribili anche con le biciclette, quindi potessero contenere anche le biciclette. Vorrei che il sistema ferroviario metropolitano bolognese fosse finalmente finito e completato. Mi immagino una Regione in cui tutti gli spazi dismessi e oggi indecentemente abbandonati possano essere rigenerati e possano essere anche assegnati in modo temporaneo, per cui vorrei proporre un disegno di legge per l'uso temporaneo degli spazi dismessi. Mi immagino che questi spazi possano diventare un volano di economia, me li immagino pieni di co-working, mi immagino forme di housing sociale e credo che la nostra Regione possa da questo punto di vista sperimentare. Mi piacerebbe che nelle nuove linee guida per la salute fosse ricompreso che gli ormoni per le persone in transizione siano devoluti in maniera gratuita, perché quegli ormoni sono dei farmaci salvavita. Mi piacerebbe che a tutte le coppie, indipendentemente dal fatto che siano formate da persone eterosessuali o da persone dello stesso sesso, venisse data la parità di accesso ad ogni diritto e credo che anche su questo la Regione Emilia-Romagna possa fare tanto. Per cui osare si può, osiamo tutti insieme e immaginiamoci un'Emilia-Romagna che sia alla portata dell'uguaglianza che noi cerchiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.